In occasione del suo trentennale, l'Oasi sta cercando di affrontare il tema dell'accoglienza in tutte le sue sfaccettature. A parlare di questa importante tematica sarà un sacerdote e teologo dell'Ordine dei Servi di Maria. Sarà padre Hermes Ronchi in questa occasione che ci aiuterà a riflettere sull'accoglienza del dolore sia accogliendoci che accogliendo gli altri. Perché se uno accoglie il dolore e la sofferenza, in qualche modo l'allevia. Per cui crediamo fermamente sia importante per ogni essere umano, perché tutti siamo in qualche modo coinvolti. È un tema insito nella vita di ogni essere umano. Per cui invitiamo tutti veramente a partecipare. Noi come Oasi dell'Accoglienza facciamo sempre tutto nella gratuità. Quindi anche questa volta sarà un'accoglienza totalmente gratuita. Per quanti vorranno condividere con noi questo momento. che padre Hermes Ronchi, essendo un grande esperto in merito, ci aiuterà a riflettere e ad accogliere anche questo tempo importante della vita dell'essere umano. Dove e a che ora si svolgerà l'incontro? Si svolgerà alle 17.30 del 21, sabato prossimo, alla chiesa di Santa Maria del Soffraggio a Fano. Per cui l'abbiamo voluta proprio in città per condividere e dar la possibilità, il più possibile, alle persone di partecipare.